Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire cosa è successo, ti vogliamo ricordare di cliccare sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Il tuo supporto per noi è importante e ci aiuta a fare sempre meglio. Grazie. Oggi, nella sua trasmissione mattutina, la giornalista e conduttrice Simona Branchetti ha trattato vari argomenti. Tuttavia, verso la fine della puntata, ha comunicato una notizia drammatica. Sembrerebbe che le condizioni di salute del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, siano critiche. Nel corso della diretta su Morning News, trasmessa su Canale 5, la Branchetti ha annunciato il peggioramento delle condizioni di salute di Giorgio Napolitano. Come riportato da Nostrat.it, ha affermato che la situazione sembra essere molto complicata. Inoltre, ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando che l'ex capo dello Stato presenta un quadro clinico particolarmente complesso e che, nelle ultime ore, la situazione si sarebbe ulteriormente aggravata. È importante ricordare che Giorgio Napolitano è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana a essere rieletto due volte. La prima volta il 10 maggio 2006 e la seconda volta nel 2015.